La seconda serata del Festival di Sanremo 2015 è mercoledì 11 febbraio. Ricordiamo che oltre alle cantanti Arisa ed Emma Marrone, il conduttore Carlo Conti gode anche della presenza della bella attrice e modella spagnola Rosio Muñoz Morales, nota anche per essere la nuova fidanzata di Raul Boa, probabilmente, statistiche alla mano, l'uomo più amato d'Italia. Il programma della serata vede l'esibizione degli altri 10 cantanti big in gara che in ordine sono Anna Lisa con Una finestra tra le stelle, Alex Britti in Un attimo importante, i soliti idioti Biggio e Mandelli con la canzone Vita d'Inferno, i reni grandi in Un vento senza nome, Marco Masini con il brano Che giorno è, Bianca Aztei con Il solo al mondo, Gianluca Grignani che presenta Sogni infranti, Malika Yen con Adesso è qui, Chiara con la canzone straordinario e Raff con Come una fauna. La seconda serata inizia anche la gara delle nuove proposte con 4 degli 8 concorrenti giovani che si esibiranno in due coppie a sfida diretta. Due vincitori, decretati da un sistema di votazione misto composto dal televoto e dalla giuria della sala stampa, accederanno alla semifinale della quarta serata. Dagli ospiti di questa serata abbiamo la cantante austriaca Conchita Wüst, vincitrice del Eurovision Song Contest 2014, una drag queen barbuta e con grande talento musicale. La splendida attrice Charlize Theron delizia la vista maschile. Come dimenticare i vari spot da lei interpretati come quello Molinari nel lontano 1993 o la sua interpretazione da Oscar nel film Monster. Charlize è una delle attrici più pagate al mondo. E tra gli ospiti molto attesi nella seconda serata del Festival di Sanremo edizione 2015 c'è anche il nazional popolare cantautore Biagio Antonacci. La presenza di Biagio Antonacci potrebbe segnare il picco Auditel della serata. Staremo a vedere. Staremo a vedere.